Buon pomeriggio. Devo rispondere a una domanda abbastanza chiara su cosa si può fare. La domanda era cosa può fare Conte. Prima di vedere cosa può fare Conte vediamo cosa possiamo fare noi. Tra noi ci metto anche la gente che vuole difendere i diritti dei più deboli. Non è una questione di percettore o non percettore. Quindi va bene le manifestazioni a Palermo, va bene la manifestazione a Roma, io vi terrò aggiornati sistematicamente dalla prossima settimana sugli orari e tutto quanto, ma servono altre manifestazioni. Servirebbero soprattutto in una regione che ha come governatore un nemico dell'RDC, eletto nelle file del PD, personaggio in cui io sono perfettamente d'accordo con la Bindi è un impresentabile, ma che continua a pontificare, continua a fare i suoi affacci e tutte le volte che poi deve dar sfoggio delle sue capacità vi trovate un parcheggio nuovo high tech che si allaga quando piove, l'internazionale di tennis con i campi che sembrano delle paludi e perle di questo tipo. Ma intanto lui straborda con i suoi lanciafiamme. Ecco, è il stesso discorso che ho fatto per la Meloni, ci sono percettori RDC che hanno votato per la Meloni, ci sono percettori RDC che hanno votato per De Luca. Lo stesso che diceva che la responsabilità dei pochi dipendenti disponibili per il settore turismo e alberghiero era dell'RDC, perché ovviamente non volevano andare a farsi sfruttare per pochi soldi. Ed è ovvio che ragionasse così. Quello è il suo elettorato di riferimento. Avete detto ormai il PD non è più l'elettorato di riferimento dei poveri. Cosa vai a votare? Veltroni che rinnega la sua creatura, che ormai va solo in televisione per pubblicizzare quei suoi libri del cacchio. Volete votare un partito che attualmente è più impegnato a decidere che il nuovo segretario e se devono cambiare nome o no, che a ragionare sui temi seri. Un partito che va a una manifestazione che dice esattamente il contrario di quello che dicevano loro in aula. E' ovvio che la cosa... Quindi tutto il peso dell'opposizione reale va su Conte. E quello che può fare Conte è l'ostruzionismo parlamentare, seppellire le cose di emendamenti su emendamenti. Non è che c'è molto da fare se dietro non c'è una massa organica che lo supporta. E la massa organica sarebbero le manifestazioni, l'impegno continuo, un impegno civile. Asi qui molti di voi si impegnano sui social e vengono subissati di insulti da quattro poveri coglioni che pensano che di essere in una comfort zone, in un guscio protetto e non accadrà mai niente a loro. Poi quando capiterà saranno i primi, ve l'ho detto, a correre con la mano in attesa per avere l'RDC o per andare nelle file della Caritas, mentre magari quando ci vanno gli altri li passano di fianco e li guardano con disprezzo. Perché ve l'ho detto, la cosa più fetida del piccolo borghese, ma non lo dico io, diceva Max, non usavo la parola fetida, ma in realtà la piccola borghesia è sempre stata lo scudo e l'arma del capitalismo. Una volta che arrivi in quella tua zona in cui ti ritieni al sicuro da tutto, tendi a disprezzare il tuo punto di partenza. Invece bisognerebbe sempre ricordarselo, perché ci puoi sempre tornare. Il piccolo borghesino adesso o ha votato a destra o ha votato PD, cioè ha votato a perdere. Dicevo, bisogna organizzarne altre manifestazioni e bisogna coordinarle. Ora non è fattibile per i percettori radici spostarsi su e giù per la penisola, i costi sono tanti. Ma dico, formiamo quattro comitati, uno al nord, uno al centro, uno al sud e uno nelle isole. Ogni comitato ha un portavoce, sarebbe l'ideale avere come portavoce non un percettore radici, ma un non percettore radici che porti avanti le istanze dei più poveri, perché dovrebbe cercare di coinvolgere in questo anche i disoccupati, gli invalidi parziali, i pensionati con la minima, i fragili, i senza tetto, tutte persone che non hanno una voce, che vengono sistematicamente ignorate. ve l'ho detto, io sono disponibile per il nord, ma serve uno sforzo e una coscienza collettiva, in questo senso. E io non è che la vedo, si va veramente ancora all'interesse personale, che io lo capisco, però se continuiamo ad andare in battaglia uno alla volta, è ovvio che le battaglie non si vincono. Bisogna andare in una massa compatta. Il quarto stato, il quadro di pellizzo da volpeso, cercate di ricordarvelo, è una massa che avanza. Se devo andare a citare i fondanti del socialismo e del comunismo, lo faccio volentieri, perché se devo aspettare che li citi il partito di riferimento principale, il PD, che non sa neanche più come si scrive Gramsci, sto fresco. Vogliamo supportare Conte? Conte deve capire, dietro c'è una massa organica che lo supporta, ma non deve essere una massa organica che è fondata solo su percettori l'RDC, in modo da togliere anche l'alibi del discorso del voto di scambio. E questi hanno preso l'RDC, lo votano. No, lui deve diventare l'avvocato delle cause perse, dell'avvocato di quelli che non hanno a voce. Questo gli darebbe maggiore statura. E magari smerderebbe tizi che chiamano prodotti cose che fanno boom e che fino all'altro giorno vendeva questi prodotti con orgoglio. Guardate che la differenza tra Cosetto e l'Alberto Soddi di Finché c'è guerra c'è speranza è che l'Alberto Soddi sapeva di vendere merda. Questo qui vuol dirvi che invece di vendere merda sta vendendo cioccolato svizzero. Ecco, questa è la mia prima proposta. Me ne porterò delle altre. E per chiudere comunque, per dire a che livello di demenza si può arrivare. Allora, conoscete la questione Francia-Italia sulla nave migranti, no? Si fa l'accordo sottobanco, quello era un accordo sottobanco, si fa sempre in politica estera, si fa sempre in diplomazia. Ed è sottobanco e mi arriva tenuto silente. Dopo due secondi che l'hai fatto, prima arriva il ruspa che non capisce un cazzo di politica estera e si vede. E poi la meloneva dietro tutti. Ecco, mi tocca poi sentire dire che era un piano della meloni per smernare Macron. Benissimo. Quel piano a cosa ha portato? Al fatto che la prossima volta che l'Italia avrà bisogno, da parte francese, già hanno cominciato, vi mostreranno il braccio alzato e il dito medio. Complimentoni, è una balla mossa. Che si è visto quanto contate in politica estera? Perché in soccorso della ridistribuzione per la Francia sono corsi subito. La Germania, sono subito offerti. Quando lo chiede l'Italia non rompete le balle. Quello vi rispondono sostanzialmente. E comunque avete dato una dimostrazione di lealtà e fiducia che, da storico ve lo dico, non è una cosa nuova per voi. Cioè, dagli accordi sottobanco per l'entrata in una guerra mondiale, dal tentativo di accordo fatto tra Napoleone III e la Marmora per che l'Austria cedesse volontariamente il Veneto per non avere un secondo fronte nella guerra contro la Prussia. Accordo che poi si è visto, ha portato a zero, ma in compenso ha portato a voi i casini di custozza e poi a scendere anche quelli di lissa, se vogliamo. Cioè, queste manovrette qui, quando vengono scoperte, non è che ci guadagnate incredibilità. Altro che Macron può fare l'istereo finché vuole che gli frega. A destra dei francesi è ovvio che appoggile alla posizione della memoria perché deve andare contro Macron, ma fattualmente, fattualmente, l'Italia ha fatto la solita figura del mazzettaro, di quello che fa il gioco delle tre carte. Quindi fidarsi sarà molto difficile. E chiudo su, a dimostrazione comunque, tutto il mondo è paese, l'idiozia non è una cosa da poco. L'ex vostro premio a Draghi sta supportando l'elezione del Bibitaro, di Gigino, a rappresentante, a commissario rappresentante della UE, per le questioni inerenti al Medio Oriente. Ora, Gigino Di Maio del Medio Oriente sa zero, anzi sta sul cazzo a buona parte dei paesi medio orientali, a partire dal nostro ma a seguire molti altri. l'Arabia Saudita, la Siria, altro, perché di fatto, quando c'è stato lui, si è visto che combinava solo casini. Ecco, e voi mandate un imbecille con pochissima capacità dialettica e che sta sulle balle a diversi di questi paesi, che sono quelli che poi vi forniscono il petrolio, a rappresentare la UE, perché lo chiede Draghi. Non sarebbe vero che Ramaro cominciasse a tornare a impicciarsi dei cazzacci suoi e mandaste qualcuno che ha un po' di cognizione del campo in cui deve operare. Perché ragazzi, mandare Gigino, che tanto per cambiare... Quando vi dico, ragazzi, come si fa ad avere stima di una persona così, che ormai venderebbe veramente la madre per avere un posto e non essere obbligato a fare una qualsiasi attività nella sua vita? Come si fa ad avere stima e fiducia della UE quando di fatto la UE manda gli scarti a parlare con dei paesi che, invece dal punto di vista economico e dal punto di vista delle risorse, sono messi meglio della UE? Fateci un pensierino. Ciao a tutti!